dunque qua tutto chiuso qua si apre appunto sono porte unidirezionali però c'è davvero molto da vedere qui si qui ci tocca fare no seguimi adreus arrivo dai che piace? oh ma è robina Che palle Ah non tornare a su Ah ah Qui lasciamo andare giù la cosa Anche a queste cose qua Loro dovrebbero Avrebbero dovuto scegliere Non andare giù Primo click buttava giù Poi se ricliccavo andava giù Anche perché la maggior parte delle volte Se tu giochi lo vedi che non devi fare Non è un'azione che fai quella di andare giù Quanta roba vecchia Se non ci serve Lasciala perdere Lo so Ah ok qua Ma l'avevo fatto cadere anche Ma forse non è qua Ok Ecco la luce che gli ammazza le performance Oh 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 Armatura a fianchi Favorisce la ricarica però Bisogna capire che cosa vuol dire Più tredici di Di quanti secondi riduce la ricarica delle rune Deve fare la prova Ma chi lo sa Vabbè intanto lasciamo così Questo è solo verde Cambia Buono E adesso che siamo saliti qua Cioè siamo venuti qua solo per un discorso di tesori Vabbè Così sembra Ok c'è un forzino anche qui sotto Tra l'altro Ah eccovi Ok Quindi andiamo a portarlo di qua Quello Poi in realtà il gioco Anche questo è molto lineare Ok biondo Ehm E che te quando arrivi qui la prima volta E' tutto talmente intricato Che sei un po' espaisato In realtà Se lo metti su carta Quando lo sviluppi Diventa tutto molto C'è tutto molto più semplice Ok Lo dicevamo qui Ehm Portiamolo di giù E saliamo di là Quindi Da che parte Qua Vai Ok Ok Noi qui siamo full Ma no Bisogna andare ancora più avanti Qui c'è quella schifezzuola Lì Bene qua si No molla Qui Vai su Oh La la Non dimmi che ha un problema Salta su Oh che cavolo Questa cosa va ancora più avanti Questo è il massimo Questa è il massimo Eh Serve a qualcosa Ve l'ho portato qua Va tirata fuori la corda Puoi usare il carrello Per portarci lassù La corda Questa è il massimo Qui ci vuole la nostra amichetta Non faceva niente, non faceva niente, niente Lì forse è una scorciatoia futura, non so, non saprei Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù Forse c'è una strada lassù in quel passaggio aperto Vedremo Quale passaggio aperto? Dobbiamo riportare indietro il coso Perciano la tua La tua Questa è una strada Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra e lanciare il bamboccio sopra la no eh no non ci arriva a parte che non è lì giusto ma non c'è un punto di interazione ma adesso è andato ma va a caccare ok non dovevo farlo di corsa è che uno si dice devi farlo di corsa no? cioè no non devi farlo di corsa comunque ok abbiamo trovato è una storia di falchi spettrali impicchiata ma è per Atreus eh mi sembra più carino punti esperienza magari potenziamo 90 secondi di ricarica anche qua anche qua c'è qualche problema di fare il retro vedo bene sembra pesante non che ce ne frega se è pesante ma che è impossibile? eh caro ragazzo siamo dei? eh Superman Kratos Kent adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima non c'è altro qua eh? non sembra non sembra non mi senti non sì non Non si fa così con lui, dai Tiriamo giù un po' Dai, stiamo rientrando la barba, vai Sarevano un po' di gente Ah, vabbè Oh, vabbè Oh, vabbè Che in teoria non devo fargli un accidente Se non erro Ah, ok È solo quello della Andiamo Allora, ho dovuto staccare la testa Visto che era in furia Non vorrei essere al suo posto E questo Oggetto leggendare Fiamma ghiacciata Ok, ottimo Quest'altro ruolo Un attacco devastante Che scaglia una fila di frammenti di ghiaccio Che infliggono danni da gelo Beh Ok, c'era ancora qua Eh, perfetto Appugniti finis Ma vaffa Appugniti finis Ma l'altro Alvarchi ingegno Ma l'altro soddisfazione No, eh, prima Che miseria Che c'ha dato quello C'è davvero molto da vedere Funziona L'artiglio si muove Ci entra pennelli Ehi, aspettaci Allora, come Come lo blocchiamo qua Ma quella cosa lì Che l'ho vista anche prima Così Ok Ma che palla Cioè, io arrivo qui Schiaccio qua e lo va là Allora Allora Andiamo C'era un'altra cosa, eh Lo scopriremo presto Lassù c'è qualcosa di strano Potrebbe essere pericoloso Lascia perdere le supposizioni Pensa alle cose concrete E tieni gli occhi aperti Sì Ora siamo più vicini Da c'è qualcosa Andiamo a guardarsi in giro In caso che c'è qualcosa Ehi Questa non è rotta C'è un messaggio Una preghiera dei giganti Affinché gli antenati Veglino su di loro E li guidino verso casa Ragazzo Aspetta Credo di sapere Come funziona Credo di sapere come funziona Praticamente Praticamente Sono sbaglio? Sono un po' Senza Che hai scritto? Vaffanculo gigante Ho chiesto di vegliare sulla mamma Veglieranno anche su di noi Durante il viaggio Poteva scriverci Grazie al cazzo Andiamo La strada è lunga Non di lì Non di qui Argento e basta Immagino Sì Ah 1400 iniziano A Andare Parte con le sue Combo C'è del fuoco C'è del fuoco L'uzzacca Ci sta C'è ancora O deve andare? Nella galleria Vado Attenzione Altre prove I nani avranno scavato Questi tunnel Per aggirare le trame Buon per noi O meglio Buon per me Non ci credo Non sei d'aiuto Ci vediamo dall'altra parte E quindi Preparare Alla stagione Alla stagione Spallacci della concentrazione Vabbè ma è roba blu Non ha questa grande utilità Un altro montacarichi Forse la strada sarà più corta del previsto Basta ci riempie Basta ci riempie Che c'è anche questo Ancora troppo pesante No aspetta un attimo Vediamo se c'è qualcosa A parte quello C'è qualche corvo Non sembra Non sembra La Si muove di nuovo Ehi Una volta in cima Quanto lontano pensi Che riusciremo a vedere Fino al lago Al serpente del mondo A casa Lo scopriremo Una volta arrivati Ora Occhi aperti Ha fatto un bello Atreus Sto bene Ho solo perso l'equilibrio Per un attimo Sai per essere così forte Ti preoccupi troppo Se non lo facessi Moriremmo di certo Scala Sarà Ma non mi sembra divertente Vivere così Un sacco di dagger Sul torno Grazie a tutti. 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 Ma ti rialzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.